buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 28 settembre 2024 siamo in prossimità di un weekend sarà un weekend fiorito speriamo che perduri il bel tempo a fano abbiamo la festa di fiori che dà un tono ancora più bello ad una meravigliosa cornice come è il pincio già di per se stessa quindi se volete così fare una bella passeggiata tra i fiori non ne scordatevi questo appuntamento ma noi procediamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ed eccolo il santo il santo del giorno è san venceslao san venceslao che era un nobile era re di boemia figlio di uritislao e draomira nipote di boiviro primo duca cristiano di boemia e anche della beata ludmilla siamo nel cuore dell'europa siamo intorno all'anno mille e il cristianesimo aveva già così pervaso tutte queste comunità fino alla santificazione e quindi san venceslao è un portabandiera di questa diffusione del cristianesimo vediamo ora le previsioni del tempo ebbene purtroppo le previsioni ci dicono che ci sarà della variabilità insomma non è non è una cattiva notizia è perché ci saranno piogge rovesci sparsi più frequenti nelle zone centro meridionali della regione specie in quelle costiere insomma verso la provincia di ancona forse forse la provincia di pesaro sarà salvaguardata il calo è termico più il calo termico è piuttosto pronunciato si è passati dai 27 28 gradi e dell'altro giorno ai 24 di oggi per quanto riguarda la massima e ai 17 per quanto riguarda la minima i venti sulle coste espirano da ovest nell'introterra da ovest sud ovest il mare leggermente mosso il sole è sorto alle sette proprio alcuni minuti fa e tramonterà alle 18 e 56 e allora ci ho detto possiamo aprire i giornali a partire dalla notizia quella insomma che è più sensibile perché ieri si sono celebrati i funerali del piccolo tommaso ecco l'apertura sul resto del carlino fano ha detto addio al giovane tommaso tommaso bisciari 14 anni studente dell'olivetti purtroppo è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nell'istituto mentre si trovava a scuola immaginatevi ve lo oggetto anche nei giorni scorsi la commozione il dolore dei compagni di scuola che anche ieri nel corso del rito funebre hanno voluto testimoniare la loro sensibilità e la loro amicizia nei confronti di questo ragazzino fragile che purtroppo è deceduto ieri i funerali del 14enne morto a scuola per una malattia cardiaca il ricordo della madre con suo sorriso ci faceva sentire meglio ebbene era lui avrebbe bisogno avrebbe avuto bisogno lui di tutte le cure come poi ha avuto ovviamente necessarie ma era lui poi che dava conforto agli altri quindi veramente un ragazzo eccezionale e la testimonianza della mamma è stata quella che ha permeato la funzione religiosa insieme all'omelia del vescovo andrea andreozzi tanta tanta la gente che ha frequentato la chiesa tanto che non c'era più posto perché voleva entrare un po' in ritardo e quindi c'è stata grande adesione di tutta la città tommaso voleva essere solo normale forse dio gli ha risparmiato il dolore sono delle parole che sono state così catturate strapolate dagli interventi che sono susseguiti durante la messa la testimonianza in chiesa della mamma del 14enne morto per una cardiopatia folla per l'addio e questa è purtroppo l'apertura di questa pagina oggi Tommaso Biciari con il funerale forse si conclude giornalisticamente questa vicenda ma il ricordo di questo ragazzo rimarrà per sempre in tutti coloro che l'hanno conosciuto non solo nei genitori ovviamente nei parenti ma anche negli amici e soprattutto nei compagni di scuola vediamo l'altra apertura sul corriere adriatico si parla della dengue questa infezione virale che continua continua a diffondersi nel nostro territorio ebbene i malati i malati sono saliti a 85 persone sono persone infette che sono anche comprensive delle 16 convocate in dipartimento il 15 settembre scorso perché sospette tre sono i nuovi casi probabili sotto esame e 70 quelli possibili che devono essere ancora certificati vedete come questa influenza tra virgolette ma è un'influenza particolare ancora presente nel nostro territorio e con le tre disinfestazioni che l'amministrazione comunale ha eseguito nei giorni scorsi ebbene l'intervento del comune non è finito anzi continua e ieri c'erano i responsabili c'erano i responsabili di queste istituzioni c'è anche l'ASET che collabora vediamo infatti una conferenza stampa che di cui parlano i giornali oggi ieri per esempio sono così hanno parlato con i giornalisti il sindaco con gli assessori e magarnino la vice sindaco manocchi e poi c'erano anche i tecnici c'era per esempio augusto liverani che è il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'aste numero uno insieme a clizia piuglie c'era anche il responsabile dell'istituto diagnostico dell'istituto zooprofilattico umbria mar che stefano gavaudan e poi il presidente di ASET giacomo mattioli una tart force proprio per quanto riguarda la lotta contro la zanzara tigre che è il veicolo per la diffusione di questa influenza e verranno sistemate anche delle trappole nel territorio per monitorare costantemente la diffusione e la consistenza numerica della zanzara e poi c'è un'iniziativa interessante assunta dall'ASET che nelle farmacie comunali ha reso disponibile al pubblico un kit contro la zanzara si tratta di pasticche che possono essere utilizzate nei giardini privati sotto i sottovasi per esempio dove c'è dell'acqua nelle pozzanghere e poi abbiamo anche degli spray repellenti di disinfettante post punture tutto quanto da vendersi al prezzo calmerato di 15 euro al posto di 25 intanto dicevo la lotta continua e soprattutto per il prossimo anno si è deciso di cominciare le disinfestazioni nel mese di marzo invece di ritardarle come è stato fatto quest'anno dengue le infezioni sono salite 85 i cittadini devono fare la loro parte questo è l'invito del sindaco luca serfilippi e durante la conferenza stampa di ieri vediamo ancora il resto del carlino vediamo un attimo come riporta la notizia ecco il kit antidengue lunedì in farmacia costerà 15 euro e conterrà larvicidi repellente disinfettante intanto salgono 85 i casi ma 16 risalgono al 15 settembre dice liverani abbiamo parlato insomma comunque occorre tenere alta l'attenzione in merito a questa piccola epidemia che si sta diffondendo però prima che diventi preoccupante occorre prendere i dovuti provvedimenti vediamo ora le altre notizie restiamo un attimo sul resto del carlino e vediamo come c'è un personaggio fanese che si sta mettendo in luce a livello nazionale e marco gradoni gradoni è un nome molto molto noto in città ebbene lui fa parte del team della americans cup infatti è lui che tramonta è il timoniere di luna rossa dei giovani il comune prepara la festa boiani ne racconta gli inizi è veramente un fenomeno un fenomeno che è cresciuto nel nella nostra città ha cominciato ad avvicinarsi allo sport tramite il club nautico ebbene c'è poi tutta un ritratto di questo personaggio che in questo momento sta trionfando all americans cup e poi parliamo della festa di fiori di cui vi ho anticipato un po la coreografia che si sta svolgendo al pincio la festa di fiori si apre con multe e auto rimosse in via della giustizia l'abbiamo visto come ci sono stati dei problemi per gli autisti del ami e che non hanno trovato posto il posto loro riservato appunto dal trasferimento della sosta dal pincio che deve essere così lasciato libero agli stand dei florovivaistici invece nel parcheggio del cimitero nel parcheggio di via giustizia i veicoli erano parcheggiati nel nei pressi del cimitero e ostacolavano il passaggio dei bus di linea dirottati nei giorni del evento e poi ancora adesso passiamo prima di andare alle altre località ritorniamo nel corriere adriatico per vedere questo articolo che riguarda un po la presenza dei lupi nel nostro territorio fili elettrici per allontanare i lupi un esemplare investito e ucciso ebbene c'è stato un vertice in regione sulle misure per evitare le incursioni notturne misure dissuasive per evitare che i lupi entrino nell'area urbana di fano questo è uno dei provvedimenti messi a fuoco durante la recente riunione che si è svolta in ancona a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del centro per il recupero di animali selvatici il cras e anche l'amministrazione comunale il cras lo sappiamo a sede ad urbino si tratterebbe di installare fili elettrici che rilasciano una scossa soltanto fastidiosa quindi non è che poi crea molti molti danni agli animali che sono che vengono a contatto con questi fili una scossa soltanto fastidiosa lungo corridoi ecologici come campo d'aviazione canale albani o la ferrovia dismessa la linea ferroviaria fano urbino che costituisce un veicolo protetto per quanto riguarda il passaggio di animali che giungono dalle zone più isolate poi nelle zone dice abitate cinque anni in italia per diventare cittadini tra i promotori locali l'ufficio pastorale migranti si firma entro lunedì questo è un articolo che riguarda il referendum che è in atto un referendum che riduce i tempi per diventare cittadini italiani e a favore della riduzione si espone l'ufficio pastorale migranti che è quello insomma che si dedica in modo particolare all'accoglienza degli extracomunitari che vogliono costruirsi un futuro nella nostra città e allora passiamo all'entroterra a Fossombrone a Fossombrone arrestato un agente penitenziario vendeva telefonini ai detenuti in servizio nel carcere l'accusa è corruzione trovati soldi e smartphone nella casa di Acqualagna ebbè è una notizia questa di grande impatto che ha fatto il giro della regione un agente è stato tratto in arresto giovedì scorso si tratta di Giuseppe C 54 anni accusato appunto di aver venduto telefonini apparati di supporto ai detenuti lui era quello che costudiva i detenuti e ora invece è finito anche lui a essere detenuto all'interno del carcere a Pergola si parla di tartufo si parla di bronzi che sono le due maggiori attrattive di questa cittadina che è una perla a ridosso dei contraforti dell'Appennino tartufo e bronzi gli ori di Pergola la fiera nazionale ha preso il volo all'aeroporto di Falconara presentato l'evento organizzato nelle prime tre domeniche di ottobre ci siamo ci siamo molto molto vicini e beh insomma la fiera del tartufo di Pergola è un'iniziativa che esola gli stretti confini locali e quindi è giusto che la si faccia come presentazione all'aeroporto in modo che possa così interessare anche interlocutori a livello internazionale e allora torniamo anche al resto del Carlino la fiera del tartufo bianco di Pergola prende il volo tre domeniche di qualità istituito oppure un premio svelato all'aeroporto di Ancona la ventisettesima edizione che riporterà in città anche il treno storico e beh quella è una delle attrattive principali passiamo ad Urbino a Urbino Medicina d'Urgenza riapre con cinque posti la nuova organizzazione consenterà di alleggerire la pressione sul pronto soccorso fatti i lavori per 230 mila euro dunque nuovi servizi all'ospedale di Urbino questa settimana è stata riattivata la Medicina d'Urgenza al Santa Maria della Misericordia atteso da tempo questo reparto è stato realizzato con un investimento di 280 mila euro per lavori di adeguamento ed è dotato di cinque posti letto non sono molti però insomma sono già qualcosa che possono alleviare la pressione costante e opprimente e dobbiamo dirlo che tutti i giorni si effettua al pronto soccorso il profumo del tartufo torna a tavola oltre che a Pergola lo abbiamo anche ad Acqualagna ottobre rilancia le fiere e gli eventi Acqualagna si prepara per la sua fiera nazionale quest'anno sono attesi tantissimi ospiti di rilievo le previsioni sul raccorto promettono molto bene per il mix del grande caldo e le forti piogge e questo aumenta la produzione di questo tubero che è una risorsa economica per tutto il territorio vediamo ancora la notizia che riguarda il Corriere Adriatico siamo sempre nell'entroterra vediamo invece la pagina di Senigallia dove non abbiamo la prima pagina oggi nell'edizione pesarese del Corriere Adriatico per quanto riguarda Senigallia ma abbiamo la seconda estintori svuotati pala salagato per i bulli 360 ore di volontariato sono stati gli oggetti di quelle imprese velitari che fanno i giovani quando sono annoiati quindi vogliono spaccare tutto per così avere delle emozioni assalto al pala Menotti messa alla prova per tre ragazzi stralciata la posizione di un quarto imputato ebbene 360 ore di volontariato è stata vallata dal giudice Pietro Renna la richiesta di messa alla prova avanzata da tre dei quattro ragazzi accusati dalla Procura di aver devastato il palazzetto dello sport è una pena che dovranno subire a cui dovranno sottostare questi ragazzi per così imparare un po' che le cose vanno rispettate vediamo anche la pagina pesarese del Corriere Adriatico ecco qui l'apertura si parla di un'operazione antidegrado che viene organizzata il bar della discordia diventa un giardino segreto è la proposta della Lega Coop per gli orti giuri questo meraviglioso angolo della pesaro storica è un bastione gli orti giuri sono così stati realizzati su un unico, l'unico forse bastione che rimane integro della cinta muraria di pesaro storica il comune farà presto un bando per il recupero peccato che questi giardini ogni tanto hanno bisogno di una manutenzione che non viene fatta ed è veramente un peccato perché è un angolo molto molto bello della pesaro di una volta palazzo comunale di Fiorenzuola recupero a vocazione turistica piano d'intesa tra pubblico e privato le offerte fino al 4 ottobre anche a Fiorenzuola si corre ai ripari per cercare di riqualificare lo storico palazzo comunale quel palazzo che circa nove mesi fa aveva subito l'ultima ferita perdendo la copertura a posticcia ma almeno in grado di ripararlo dalle intemperie anche se era brutta insomma adesso persa quella che le intemperie agiscono ancora con più forza provocando il degrado di questa costruzione lancio di uova contro Speranza tre a processo c'è anche Carriera il ristoratore è accusato pure di lesioni e resistenza al pubblico ufficiale il dibattimento è stato procrastinato a gennaio ebbene il fatto rievoca il lancio di uova contro l'allora ministro Roberto Speranza ieri il rinvio a giudizio per tre indagati il quarto ha oblato insomma ha pagato la multa era il 23 agosto del 2021 quando il ministro della salute Speranza vi ricordate era il ministro del covid colui che si è trovato nelle condizioni di fronteggiare una emergenza allora inaspettata allora probabilmente anche molto molto superiore ai mezzi disponibili ebbene è stato contestato a Pesaro era venuto per inaugurare la farmacia comunale di via Andrea Costa ed è stato trattato con le uova in faccia insomma un evento certo non qualificabile parliamo anche di sport Megabox volley con valore aggiunto alle ragazze il messaggio della Segre il presidente Angeli la pallavolo per noi impegno e passione ma pure i valori in cui crediamo e allora a questo articolo non possiamo non menzionare l'appuntamento che ci sarà oggi al teatro oggi pomeriggio al teatro della fortuna quando verrà presentata la Virtus la Virtus inizia una nuova stagione una nuova stagione esaltante ha ottenuto la promozione e quindi oggi pomeriggio l'ingresso è libero al teatro della fortuna ci vorrebbe una prenotazione per poi magari se i posti vengono esauriti non a correre il rischio di rimanere fuori ma ci sarà anche uno spettacolo oltre alla presentazione di tutti i giocatori di tutto lo staff tecnico di questa portabandiera il volley a Fano è diventato se non superiore pari al calcio che purtroppo non milita in serie molto esaltanti però insomma il volley suprisce perché ha una qualità e un livello di gioco molto molto alto e quindi è un po' il portabandiera dei colori fanesi se ne è andato Amati il sindaco gentile la politica omaggia la sua cifra garbata Aldo Amati ve lo ricordate ricoverato al Galantara dopo un infarto lascia la compagna Carla il figlio Giovanni e due nipoti se ne è andato Aldo Amati aveva 80 anni il sindaco gentile che a cavallo tra gli anni 80 e 90 aveva guidato la città di Pesaro era da qualche tempo ricoverato a Galantara minato da un infarto da cui purtroppo non si è più ripreso e vediamo anche la pagina di Urbino dove anche qui si parla della medicina d'urgenza subito ridotti i tempi di attesa l'Ast annuncia l'innovazione all'ospedale di Urbino 5 posti letto in più efficiente tutta la organizzazione ebbene 5 posti letto fanno la differenza perché insomma poi sono 5 posti letto che sono medicalizzati hanno un apparato tecnico importante per suprire ai momenti di emergenza di cure intense di cui ha bisogno una persona che si trova e ha rischio di vita ebbene con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo alle 7 io vi auguro un buon weekend e vi ricordo appunto la festa di fiori al Pincio di Fano grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti